Purgatorio 1. Dopo gli orrori dell'inferno, per la maggioranza dei dantisti, il primo del Purgatorio introduce un nuovo ambiente primaverile in cui domina una limpida atmosfera d'accordo spirituale, che il poeta descrive ricorrendo ad un registro stilistico, ugualmente armonioso ed elegante. Il canto dunque non può che opporsi in maniera simmetrica e decisiva al caos dell'inferno e alle storpiature delle rime aspre e chiocce. Il problema però è che, per fortuna, le cose in Dante non sono mai così ovvie e automatiche. Se in termini generali è incontestabile che la Lighieri intenda distinguere nettamente e anche contrastivamente tra l'inferno e il Purgatorio, tale assioma finisce col rivelarsi di limita e piccaccia, qualora si voglia apprezzare tanto la ricca e complessa identità del nostro canto, quanto l'idea dantesca dell'oltre tomba e i modi formali con cui il poeta decise di rappresentare l'aldilà. Molto più eloquenti sono i molti elementi di continuità e di contaminazione che il poeta introduce tra i due regni. Basta pensare al sistema di contrapasso che in entrambi controlla i meccanismi di retribuzione, grazie ai quali nel corso della cantica emerge un'idea dinamica e sfumata dei punti di contatto tra l'inferno e il Purgatorio e delle differenze determinanti che li contraddistinguono. Parlare come accade di nette contrapposizioni quindi sembrerebbe eccessivo e tanto più qualora si pensasse all'antipurgatorio, luogo in cui si svolge l'azione di Purgatorio 1, e ove la giustizia divina mette in particolare risalto in comportamenti peccaminosi delle anime, punendo le colpe in e per se stesse, esattamente come accade con i peccati nell'inferno. Come preludio a quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al cielo diventa degno, Purgatorio 1 ha dunque funzioni complesse e pressoché contraddittorie. Da un lato sottolineare che con l'arrivo dei due viandanti nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro, tutto è cambiato. E dall'altro rendere evidente quanto ancora continui ad esserci di problematico, di risolto, di ostico, di infernale persino qui e su ogni balzo della montagna. Col primo del Purgatorio, Dante aveva il compito delicato di fissare i tratti distintivi di un nuovo mondo e di allontanarsi dall'aura morta di quello vecchio. Ma era altrettanto necessario far intravedere che tale allontanamento sarebbe stato graduale e difficoltoso. Piuttosto che omogeneo, il canto è teso fra tensioni opposte. Di conseguenza, il primo del Purgatorio si apre giudiziosamente e in bilico tra continuazione e contrasto con l'ultimo dell'inferno. Le due terzine incipitarie sono di fatti in parte costruite con elementi riciclati da Inferno 34. Percorre il miglio d'acqua e alza le vele ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé marsi crudele, e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al cielo diventa degno. Per esempio, ingegno e regno in posizione rima sono anticipati in Inferno 34, versi 26 e 28. L'immagine nautica è preparata dalla reminiscenza autoriale Vele di mar non vidi io mai cotali. Il primo verso del Purgatorio si fregia dalla parola rima Vele, con cui inizia Inferno 34, verso 48, che poi abbina il verbo alzare già presente nel verso 35 del canto infernale al sol le ciglia. Alcune delle riprese hanno esplicite funzioni di contrasto. Quel secondo regno che conduce alla salvezza è l'antitesi del doloroso regno dei dannati. Mentre lo stato emotivo in cui Dante, poeta, dice di trovarsi quando verga la descrizione della prima vista distorta di Lucifero, e con paura lo metto in metro, non può che opporsi allo slancio ottimistico con cui si apre il canto purgatoriale. Al tempo stesso, altri elementi, dal riuso della terminologia marina alle reiterazioni lessicali e di rima, creano nel tessuto poetico della commedia continuità formali e stilistiche tra due canti contigui e per estensione tra le due cantiche. Persino il motivo risurrezionale che molti giudicano è emblematico del Purgatorio dantesco e che asseriscono a apparire per la prima volta nella frase «Ma qui la morta poesia risurga» è anticipato nell'ultimo canto dell'Inferno. Purgatorio 1-7 calca in parte Inferno 34-68, ma la notte risurge. Se non pare veramente il caso insistere che il Purgatorio si apre con una novità assoluta di tono e di linguaggio, in che modo Dante specifica la risurrezione poetica annunciata nell'incipi di Purgatorio 1? Colpisce immediatamente il fatto che, aprendo la seconda cantica, la Lighieri poeta della novità per l'antonomasia non parli di poesia nuova, ma del risulgere della morta poesia, vale a dire della continuazione della poesia che aveva trattato del regno dei morti, cioè dei dannati, ma ora in chiave ascensionale. La transizione dall'Inferno al Purgatorio era operazione delicata. Da un punto di vista formale, l'aspetto più innovativo della cantica infernale è indubbiamente ciò che oggi, grazie a Contini, etichettiamo il suo plurilinguismo. Col passaggio al Purgatorio si presentava a Dante il problema, se continuare o meno con la soluzione formale sviluppata nell'inferno. I lettori del nostro canto sembrano d'accordo che tanto per Purgatorio 1, quanto per la cantica intera, Dante sceglie un nuovo registro stilistico. Cito, la prima parola del racconto dolce è come l'insegna della nuova temperie che d'ora in avanti dominerà il linguaggio poetico del viaggio nell'aldirà. Fine della citazione. L'asserzione però è erronea. Il Purgatorio, come anche il paradiso, continua sulla scia dell'inferno, ad integrare linguaggi e stili diversi che il Medioevo normalmente teneva ben separati, a mantenere contatti formali con la prima cantica e a creare, come dichiara il titolo Comedia, un'omogeneità plurilingue lungo tutto il poema. La cura con cui Dante fonde la chiusa dell'inferno con l'apertura del Purgatorio offre prova eloquente della continuità stilistica e narrativa a cui la Lighieri ammiva. In linea con quanto si è osservato sinora, Dante immediatamente mette in rilievo che con l'avvio del secondo regno ciò che sta per cambiare non è il registro, ma la materia del canto. I primi sei versi che introducono la nuova cantica si concentrano esclusivamente su questioni di contenuto e non di forma. Non soltanto la panoramica della seconda terzina, ma anche le emblematiche miglioracque si limitano a sfiorare questioni solo tematiche. Di maggior interesse, poiché toccano problemi di carattere letterario, sono i versi che seguono, cioè l'invocazio delle muse. Ma qui la morta poesia le surga, ossante muse, poiché vostro sono. E qui caglio pe alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le picche misere sentiro lo colpo tal che disperare perdono. Il luogo comune insiste sulla natura convenzionale dell'appello che Dante fa alle dee, affinché lo sostengano nel comporre il purgatorio. Come lei anche asserire che tanto le surga quando surga si riferiscono all'allevamento stilistico che apparentemente caratterizzerebbe il registro della cantica. Come si vedrà, è lecito definire l'invocazione come convenzionale, soltanto in termini molto generali, cioè solo se si vuole ricordare che appellarsi alle muse è spediente ricorrente e con profonde radici nella letteratura occidentale. In realtà, come egli fa spesso, Dante rinnova il topos in maniera radicale. Non mi pare che la dantistica abbia notato gli aspetti insoliti che contrassegnano l'appello dantesco a caglio pe. In generale, si interpreta l'alquanto che qualifica il verbo surgere come se l'avverbio avesse dei connotati pacificamente descrittivi oppure apertamente positivi. Eppure il tipo d'aiuto che il poeta chiede alla dea non sembrerebbe sentire interpretazioni di questo stampo. Rileggiamo i due versi in cui Dante invoca l'ausilio di Cagliope e qui Cagliope, alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono. Dante capovolge in maniera del tutto inedita il rapporto tradizionale tra muse e scrittore e relega Cagliope al ruolo di comprimaria personale la cui funzione è seguitare, vale a dire accompagnare, il mio canto poetico. L'uso enfatico del possessivo, che ricorda frasi del tipo La mia commedia, non lascia dubbi circa il senso che l'Alighieri vuole dare alla natura della loro collaborazione. A Dante, il suono della cezza di Cagliope serve soltanto come supporto. La Dea, da brava assistente, deve unicamente impegnarsi alquanto, ovvero sia limitatamente. Iniziando a trattare il secondo regno, Dante afferma che le proprie abilità artistiche e il suo status di scriba dei saranno sufficienti per permettergli di affrontare adeguatamente la composizione del purgatorio. Questo aspetto chiave dell'incipit del proemium purgatoriale emerge con ulteriore vigore se si ricorda la titubanza in cui Dante aveva reagito trovandosi a dover trattare gli orrori dell'inferno. Il nuovo atteggiamento che gli Alighieri dimostra nei riguardi di Cagliope ha implicazioni di un certo peso. Come si sa, la Dea era considerata la maxima delle muse e perciò era associata con la poesia epica e per estensione con lo stile tragico. Dunque, circoscrivendo i propri debiti verso Cagliope e addirittura subordinando la Dea ai propri bisogni, Dante sottolinea che anche il purgatorio, come già l'inferno, fa parte di una comedia senza precedenti, la quale riesce, in modo assolutamente eccezionale, ad assorbire e ad utilizzare le strutture dell'alta tragedia. Integrandole poi ad altri registi stilisti per creare nuove sintesi poetiche. Piuttosto che segnalare convenzionalmente un innalzamento di tono formale e di genere, Dante indica con eleganza che la plurilingue commedia va ben oltre preoccupazioni trite quali dettami dei genera dicendi. Per realizzare il compito di stillare un resoconto del suo viaggio ultraterreno che possa combattere contro il comportamento peccaminoso dell'umanità, Dante suggerisce che, come poeta cristiano, egli non si è lasciato guidare pedissequamente da Deità e autore spagani. Di fatto, come si vedrà, Purgatorio è anche impegnato nel mettere a fuoco i limiti del mondo classico. Apprende il Purgatorio, Dante non poteva essere più esplicito a proposito della veste formale della seconda puntata del suo capolavoro. Sebbene, in termini narrativi ed ideologici, tutto fosse cambiato, il suo poema sarebbe proseguito seguendo correntemente i medesimi criteri artistici già esperiti e legittimati nell'inferno. Il nuovo stile misto-comico è la costante formale che poeticamente lega in un volume ciò che per l'universo si squaderna. Diversamente da Virgilio nella Quarta Bucolica e dalla tradizione, Dante non trovava impossibile cantare tamerici umili e al tempo stesso ricorrere a registri più elevati. Quindi, visto che, come il nostro canto rende esplicito, il Purgatorio è la cantica in cui il mondo della natura ha un ruolo preeminente, sin dai primi versi Dante enfatizza che non avremo a che fare col basso bucolico tradizionale. Le prime due terzine del canto si pongono così in antitesi diretta ai sentimenti espressi da Virgilio nelle geologiche, al lavoro quasi concluso. E vi do una traduzione mia in italiano. Ma pure se all'estremo ormai delle mie fatiche le vele non dovessi raccogliere verso terra a frettarmi a rivolgere la frua, forse anche la cura che abbellisce e feconda gli orti canterei, i rosai di pesto, due volte fioriti ogni anno. Con la commedia, il sistema letterario occidentale è definitivamente alterato. Imprigionare il poema in formule che appartengono a valori poetici, per quanto aulici che Dante sfida in ogni canto, se non di fatti in ogni terzina, non può che portarci lontano dal solingo piano artistico che la Lighieri aveva coraggiosamente deciso di abitare. In Purgatorio 1, l'auctor da cui Dante principalmente si distingue è la somma auctoritas letteraria medievale, la guida che l'ha tratto sia sano e salvo attraverso i luoghi di tutta la genteria. Il problema che qui dunque si presenta è se la presa di distanze che Dante avvia a livello formale e metà letterario influisca anche sulla rappresentazione di Virgilio nel canto. Soprattutto in anni recenti, i dantisti hanno riconosciuto che i modi in cui la Lighieri rappresenta Virgilio sono spesso ambigui e limitativi, prospettiva che si adatterebbe bene a un canto liminale come il nostro, così pieno di tensioni ed equivoci che nascono dal grave compito di dover negoziare il passaggio ai rapporti, non soltanto tra due regni contrastanti seppur contigui, ma anche tra due mondi culturali ed ideologici diversi seppur adiacenti, come l'incontro con Catone metterà drammaticamente a fuoco. Arrivato sulla spiaggia del Purgatorio, Virgilio si trova in un ambiente sconosciuto. Tuttavia, la ragione principale per cui il poeta antico si sentirà sempre più spaesato e troverà difficile sapere come comportarsi, l'incontro con Catone è esemplare da questo punto di vista, è che egli deve venire ai patti con un ambiente irriducibilmente cristiano e quindi al di là delle sue capacità di comprensione. Dunque, nella Diegesi, Virgilio è ripetutamente costretto ad affidarsi all'autorità degli abitanti del Purgatorio, fino a che, con l'arrivo di Beatrice, si esauriscono completamente le sue responsabilità di guido ed egli non può che svanire. In verità, Virgilio inizia a svanire già dal primo canto del Purgatorio, poiché si dimostra poco capace persino di comunicare adeguatamente con un altro pagano. La figura di Catone continua ad affascinare e a sconcertare i dantisti. Poiché lo hanno già fatto e continuano a farlo in tanti, in questa sede mi pare di poco valore ermeneutico passare in rassegna le innumerevoli soluzioni che sono state proposte per spiegare la presenza di un suicida pagano con simpatie anti-imperiali nell'oltre mondo di un poeta decisamente cristiano e tra virgolette ghibellino. Piuttosto, e dalla luce di quanto si è detto sin qui, vorrei semplicemente fermarmi su alcuni aspetti del Catone dantesco che non mi sembra abbiano ricevuto adeguata attenzione dai critici. Per esempio, gli effetti della sua comparsa sulla presentazione di Virgilio nel canto sono rimasti per lo più inesplorati. In particolare, le dimensioni storiche, culturali e psicologiche del loro scambio sono state lasciate in ombra. Un'aura di sorpresa avvolge l'apparizione di Catone e la meraviglia sorprende noi lettori nel trovare il suicida antico sulle sponde purgatoriali. Ma il nostro stupore riflette anche quello che colpisce Luticenze nell'imbattersi nei due viandanti e che si scioglie in una serie di domande serrate e opportune. Virgilio si dilunga nel risponderli per più di trenta versi, spiegando la situazione nel dettaglio, anche se non sempre appositamente, confermando la liceità della loro presenza nei sette regni. Prima rassicura Catone con garba e finezza che le leggi d'abisso non sono rotte. Poi, malgrado le proprie simpatie imperiali, dichiara la sua ammirazione per il campione della libertà repubblicana. Infine, con slancio generoso, il mantovano si dichiara disposto a fungere da intermediario tra terreno tra Catone e Marzia. A prima vista, il discorso di Virgilio sembra ragionevole e calibrato con sensibilità. Più specificamente, esso sembra appropriato a uno scambio tra due preminenti e sofisticati individui che spartiscono la medesima cultura e gli stessi valori etici. Quindi, il ricorso virgiliano ad una retorica elegante che si fonda su un ripetuto apprezzamento delle richieste dei meriti dell'interlocutore sembrerebbe perfettamente intonato, tanto quanto l'apparente volontà di minimizzare il proprio ruolo. in termini storici, culturali e psicologici, il modo in cui Dante presenta Virgilio a interagire con un suo pari, illustre e pagano, si direbbe convincente e realistico. Dunque, che Luticense si rivolga a Virgilio con toni irritati e perentori è del tutto imprevisto. Il grande stoico rifiuta le cortesi gentilezze del concittadino. Non solo non indulge in carinerie retoriche e sociali, ma addirittura rimprovera a Virgilio il suo modus tractandi. E diversamente da quest'ultimo, non spreca parole. Però l'aspetto più scioccante della sua leplica, già severissima, è il fatto che condanni le parole del poeta in conformità a norme cristiane. secondo Catone, Virgilio è un lusingatore, le cui lusinghe si schierano contro la provvidenza divina. Ma se donna del ciel ti muove e regge, come tu di, non c'è mestier lusinghe, basti si ben che per lei mi ricche. il giudizio è pesante e nitido. Il grande autor è colpevole di adulatio, emblematico peccato della lingua. Benché Catone scarti le captazioni sbenevolenze virgiliane come lusinghe, parlare di peccato in verità impreciso. Da un lato il termine tecnico per il peccato della lingua segnala il rigorismo morale dell'uticense. Dall'altro però, è doveroso riconoscere che Virgilio non ha peccato, ma che ha commesso semplicemente un errore del tutto scusabile dato lo stato di confusione e di ignoranza in cui comprensibilmente si trova, essendo egli arrivati in un regno a lui, pagano, fatalmente sconosciuto e pur sotto la balia di un suo simile. È difficile pensare ad un modo più efficace per sottolineare i limiti culturali, storici e spirituali di Virgilio e con lui di tutto il suo mondo. di quello di avvicinare il maestro ad un pagano che per grazia divina non è più vincolato dalle catene che imprigionano gli altri suoi pari di là dal mal fiume. La cultura classica di cui Virgilio è emblema e che in generale aveva ben servito i viandanti nell'inferno è ora radicalmente ridimensionata. Nell'avviare la seconda cantica Dante non spreca tempo a esplicitare che nel purgatorio Virgilio sarà spogliato di molta della sua magistrale autorevolezza. Paradossalmente direi una delle ragioni per cui Dante ha messo in bocca Catone la parola dusinghe fu per sottolineare che gli sbagli che Virgilio commetterà nel purgatorio sono cosa ben diversa dalle adulazioni e dagli altri peccati di cui l'inferno è strapieno. Come alle anime pentite anche a Virgilio sono perdonati i falli di cui si rammarica. Quindi in termini providenziali e a livello della diegesi Virgilio non è criticando piuttosto Dante svela semplicemente la realtà della condizione come è vera in cui lo ducomia come ogni altro pagano quasi ha vissuto in terra e deve vivere nell'eterno questione su cui avrò altro da dire. Al tempo stesso ricorrendo all'Emma lusinghe Dante ritorna a criticare quel fare poetico virgiliano e quel sistema letterario di cui il maestro è perno che il nostro aveva preso di mira sin dai primi versi del canto. Il discorso di Virgilio per quanto conforme alle norme dell'eleganza retorica e dello stile tragico è anche interiso di difetti e tautologico poi nel ricapitolare eventi passati il poeta mette troppo in evidenza se stesso e come si è iniziato a vedere egli non risponde direttamente alle domande di Catone ma si dilunga alquanto seducentemente in circolocuzioni in elogi in allusioni e in iperboli in fin dei conti il suo discorso per quanto sofisticato come Catone mette inequivocabilmente in evidenza è inutile non c'è mestiere lusinge basti ben che per lei mi richegge anche se non lo fa per scopi riprovevoli Virgilio adopra il linguaggio erroneemente ed è questo che lo accomuna ai peccatori di lingua per dirla diversamente il poeta dell'Eneide ha usato il linguaggio non per scopi informativi e morali il rapporto tra lingua ed etica era incendibile nel medioevo ma per vuoti fini esornativi e lusingieri una critica più pesante Catone non poteva esprimerla sul conto dell'autor supremo dell'età di mezzo le capacità stilistiche che normalmente avevano ben servito i viandanti nell'inverno e per le quali Virgilio era stato scelto dalle donne del paradiso non sono più pertinenti almeno non lo sono allo stesso modo nel regno del pentimento e come accade con l'invocazione alle muse la condanna di Catone finisce con l'includere lo stilus tragicus di fatti si potrebbero leggere le critiche dell'uticenza come una glossa alla guanto che delimita Calliope il registro il discorso di Virgilio offre prove concrete dell'ineguadezza e dello stile alto come registro con cui misurarsi col nuovo regno della redenzione e dell'umiltà cristiana poiché adesso si adattano non le forme dell'elegante ma ampollosa amplificatio tragica e l'artificiosità dei generi a dicendi caldeggiata da Virgilio ma quelle della brevita schiara funzionale e plurilingue di Catone la complessità ma anche l'importanza della relazione di Catone al discorso di Virgilio si può riconoscere dal fatto che le sue riserve si fondano non esclusivamente su valori cristiani ma sorprendentemente di nuovo anche su criteri etici pagani e vi leggo alcuni di questi criteri etici in mia traduzione quando qualcuno ti loda ricordati di essere il tuo proprio giudice non credere più di te stesso se detto da altri di quanto tu credi non essere ventoso se vuoi essere considerato buono non approvare coloro che lusingano conversando la fonte di questi aforismi di etica pratica è il testo che nel medioevo circolava con la designazione altamente allettante per il precedente lavoro di Cato e che noi oggi normalmente chiamiamo disti cacatonis oppure dicta catonis l'opera di largo uso nella scuola medievale fu compilata tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo da autore anonimo il quale a causa del tenore fortemente edificante associò il proprio lavoro a Marco Porzio Catone soprannominato il censore per il suo austero moralismo e bisnonno del protagonista del nostro canto Catone Luticenza si penserebbe che Dante conoscendo tanto la falsalia come Purgatorio 1 conferma quantidistica non avrebbe potuto confondere il suicida col cato delle sue letture scolastiche dato che il secondo libro della compilazione si apre con un invio diretto a Lucano eppure come non di rada cadeva nel garvuglio della cultura medievale le cose non erano in realtà così pacifiche l'identità dell'autore era contestata e fonte di perplessità difatti nei commenti aidistica e nei gesti scolastici l'opera fu attribuita a Cicerone al censore a Seneca a Giovanni Crisostomo anche se non ho trovato finora chi l'assegnasse a Lucicense ciò non esclude la possibilità che Dante equiparasse aidistica al guardiano purgatoriale per molti lettori medievali la questione della paternità fu secondaria a quella dei contenuti della raccolta poiché nomina su conseguenze a rerum chiunque si fregiava del nome cato era necessariamente sapiens prudentissimus ingeniosus bel sapiens e quindi incarnava in sé i valori e le virtù aidistica Dante di fatti rende subito esplicita l'intima connessione tra aidistica e il suo veglio dopo aver descritto la barba e i capelli descrizione che fonde elementi della falsaglia con topoi tipici della rappresentazione dei patriarchi e profeti biblici il profeta il poeta si sofferma sugli raggi delle quazzo luci sante che freggiavansi la sua faccia di lume sin dal secento nelle stelle purgatoriali si sono riconosciute le quattro virtù cardinali vale a dire quelle medesime virtù che secondo la tradizione ricchissima dei commenti melievali aidistica organizzano i quattro libri della raccolta e sono alla base dell'opera latina inoltre di nuovo per mezzo dei commenti dell'età di mezzo sin almeno e cito dalla fine del dodicesimo secolo ogni lettore di Lucano sapeva che Catone rappresentava la perfetta sintesi delle virtù cardinali dunque continua la De Angelis i lettori ai quali Dante indirizzava l'immagine del bellio solo intendevano immediatamente Catone come ipostasi di quelle quattro virtù più precisamente comunque si dovrebbe riconoscere che tale associazione ancora prima che effetto della lettura epica di Lucano sarebbe scaturito dalla conoscenza del Cato testo di decisamente maggior diffusione della Farsalia fatto sta che nel Purgatorio è difficile negare la perfetta sovrapposizione tra l'uticenze e le virtù cardinali come pure che tale sovrapposizione deve non poco alla lettura scolastica dei distica poiché chi godeva del privilegio di essere nominato Cato personificava anche i valori esistenziali del Cato e che non non ci possono veramente essere dubbi che il personaggio dantesco dipenda in maniera determinante da edistica e dalla sua tradizione esegetica è confermato dai molti elementi della rappresentazione dello stoico che riprendono il liber catonis Filippo Gianferrari ricollega almeno i seguenti aspetti del velio onesto alla tradizione dei distica innanzitutto la cristianizzazione dell'uticenze poi i temi della reverenza filiale dell'onestà della inviolabilità delle leggi della salvezza e della superiorità della morte sulla vita i distica non soltanto arricchiscono la figura del velio di notevoli e pertinenti risvolti positivi difficilmente rinzacciabili particolarmente al medesimo livello di concentrazione in altre fonti ma aiutano anche a legittimare la presenza del suicida pagano nel purgatorio all'infuori di un altro testo su cui tornerò fra non molto non mi sembra che si possa dire lo stesso di nessuna delle opere che sono state proposte come attinenti alla rappresentazione dantesca di Catone le fonti classiche da Lucano a Virgilio da Seneca a Cicerone a Valerio Massimo su cui la dantistica si è largamente soffermata offrono sì singoli spunti al ritratto complessivo ma inevitabilmente non riescono se non per vie indirette a giustificare la presenza e le funzioni dell'uticenza nell'oltre tomba ugualmente gli intertesti cristiani in particolare i ragionamenti di Agostino e di Tommaso sul suicidio sono di utilità alquanto alimitata se si ambisce ad apprezzare le ragioni della sua salvezza quantomeno perché nell'elencare i rarissimi casi in cui il suicidio non è peccato il vescovo di Pona e Tommaso nel suo solco insiste pesantemente sull'illegittimità del comportamento di Cattone che condanna come atto di debolezza intellettuale e morale troppo spesso indagando gli antecedenti culturali della Ligieri la cultura ha insistito nel seguire piste auliche ed accademiche piuttosto di riconoscere l'influsso di tradizioni dai testi di scuola alla predicazione e ai diversi lavori di compilazione a cui un laicus come Dante poteva più verosimilmente avere accesso D'altronde nel caso specifico di Cattone Idistica e i suoi commenti costituiscono l'equivalente testuale del personaggio dantesco entrambi non soltanto armonizzano in sé elementi pagani e cristiani ma anche significativamente condividono molti di questi stessi elementi i personaggi chiave della commedia sono sempre figure composite per esempio nel plasmare Euriste Dante crea una figura altamente complessa in cui sincretizza un ventaglio amplissimo di rinvii culturali cosicché l'errore finisce col fungere anche da emblema di vari aspetti importanti del mondo antico ugualmente come si è iniziato a documentare il veglio controparte redenta del curioso stannato e creazione culturalmente concreste stratificata la quale come si vedrà incarna anch'essa funzioni esemplari ciò che essenzialmente separa la descrizione di Ulisse da quella di Catone sono gli ricchi tratti cristiani che caratterizzano quest'ultimo tratti principalmente scritturali che assieme all'edistica servono a chiarire e a sdramatizzare la sua imprevista presenza nel purgatorio si è già fatto cenno ai legami generici tra Catone i patriarchi e i profeti legami che costituiscono un ulteriore distacco di Dante dal giudizio negativo di Agostino sul romano il vescovo di Pona distingue nettamente tra l'agire coraggioso dei personaggi vetro testamentari e il futile suicidio del pagano tuttavia i legami con i patriarchi e i profeti non sono soltanto di natura generale ma si può pure associare con sicurezza Catone a figure a particolari figure scritturali e invariabilmente si tratta di figure di un certo spicco di conseguenza Dante accuratamente allontana Catone dal suo mondo che gli era appartenuto ecco la ragione principale del ruolo secondario svolto dagli intertesti risalenti alla letteratura antica per creare un profilo nuovo in cui l'homo vetus pagano non svanisce ma è sempre più subordinato al nascente homo novus cristiano la descrizione dantesca quindi nelle sue linee generali richiama la trasformazione spirituale che ogni anima penetente in realtà subisce nel regno della purificazione facendo così di Catone simbolo dell'intransigenza del processo redentivo aspetto che continuerebbe a spiegare l'inflessibilità del comportamento si dimentica un po' troppo spesso che dalla prima apparizione del velio alla sua identificazione intercorrono 45 versi e che la figura che emerge nel frattempo ha poco o nulla a che fare col mondo antico manca dunque qualsiasi indizio che ci possa suggerire che abbiamo a che fare con il suicido di Utica o persino con un pagano al tempo spesso per quando la rivelazione sia inaspettata e scioccante quando avviene il senso di sorpresa e di inidoneità trasgressiva che essa suscita è mitigato dall'alone sacro che sin dal primo momento avviluppa il nuovo scato in verità il processo di sacralizzazione inizia qualche istante prima del suo arrivo il movimento del pellegrino un po' come volgendo vidi presso di me ricorda Maria Maddalena conversa est retrosum et videt Iesum stantem passo giovaneo che suggestivamente per il contesto del nostro canto continua et non sciebat quia Iesus est la dimensione cristologica del veglio è poi rafforzata grazie alla faccia illuminata dalle stelle come il sol fosse davanti che allude alla trasfigurazione di Gesù et transfiguratus est ante eos et esplenduit facis eos sicud sol inoltre i versi 37 a 39 si ricollegano con diversi altri passi scritturali in cui si descrive l'apparenza luminosa degli eletti divini se si aggiungono a questi elementi lineamenti profetico patriarcali il nuovo arrivato non può essere che una manifestazione divina un dacelmesso essere privilegiato beato e salvo in quattro terzine Dante ha definitivamente compresso e fissato il suo personaggio così che anche quando la sua vera identità storica sarà svellata la canonizzazione a justus cristianos non sarà intaccata la trasfigurazione di catone come quella di cristo è assoluta d'altronde nei primi versi del ritratto c'è altro ancora la figura biblica che l'uticenza lamenta di più è il misterioso simili spiglio ominis dell'apocalisse che appare a Giovanni quando egli fu in insula quai appellatur patmos e che istruisce l'avvangelista su come comportarsi come Remigio da zero aveva asserito sul conto dell'autore del catro anzi si professa cristiano traduco Remigio così anche la Lighieri trasforma il suo catone in eletto del dio cristiano al tempo stesso resta l'ostacolo del suicidio peccato che la tradizione cristiana e Dante assieme ad essa condannava pesantemente da tempo per rendere conto della presenza tra le anime redente di colui che non sentì come amara inutica la morte la dantistica cita passi di Agostino e di Tommaso in cui la tradizione teologica per citare la Chiavacci Leonardi ammette infatti casi eccezionali di suicidio ispirato da dio stesso per testimonianza ad esempio agli uomini passi che Dante arricchisce in maniera originale aggiungendovi il tema politico quanto salvifico della libertà sono convinto che si è visto giusto nel riconoscere in queste argomentazioni dozzinali la corretta motivazione teologica per legittimare l'atto estremo di Catone persiste però se non erro il problema che in Purgatorio 1 non si sono riconosciute tracce dei ragionamenti teologali sul suicidio come atto providenzialmente sancito in verità tali ragionamenti benché indirettamente vi sono presenti grazie alla revisione di Catone in chiave biblica ammettendo che malzia piacque tanto agli occhi miei l'uticente riecheggia le parole di Sansone al padre anche la formula donna del cielo richiama la locuzione con cui si apre il capitolo 14 del liber iudicum mulierem de filiabus filistim e poi pure la moglie di Sansone come Marzia accepit maritum unum de amic cis eius et pronubis mentre tutte due i loro sposi abitano anzi dacciosi Catone le grotte e Sansone la spelunca petrae aetam tuttavia l'elemento che principalmente accomuna i due eroi è che entrambi si uccisero indirizzandosi a Dio Sansone fa cadere la colonne su se stesso e sui suoi nemici e di conseguenza tanto in Agostino quanto in Tommaso Sansone è presentato come caso rarissimo di suicidio divinamente voluto mutando l'uticenza in Sansone e Romano Dante lo investe della nozione teologica assolutamente cruciale per lo sviluppo e la legittimazione del suo personaggio che il suicidio può in qualche istanza estrema aver origine e fini providenziali nel caso specifico di Catone del sacrificio di sé in imitazione Cristi che porta alla libertà e dalla salvezza non soltanto ma propria ma pure degli altri ad ogni modo è anche importante riconoscere che la Ligieri dramatizza trasmutandolo il fatto del suicidio di Catone non parla per circonlocuzione lasciando scusatemi ne parla per circonlocuzione lasciando in sospeso i dettagli concreti della morte ed enfatizzando piuttosto l'eroismo e la condizione gloriosa del corpo alla risurrezione finale come sa chi per lei la libertà la vita rifiuta tu il sai che non ti fu per lei amara inutica la morte ove lasciasti la veste che al grandista la sicchiara Catone non sembra più un suicida ma da un lato il prode classico che incarna i valori essenziali della sentenza dulce decorum es propattere amori e dall'altro il martire cristiano che al giudizio universale riceverà il premio supremo della stona inoltre l'impressionante contrasto tra l'oscuro ed orrendo bosco dei suicidi i quali come l'altra anima verremo per nostre spoglie ma non però che alcuna se ne vesta e l'ambiente mattutino in cui crescono i giunchi sovra il molle limo e il cui guardiano sarà riunito col colpo nell'eterno distanzia da Catone presso a poco definitivamente la realtà di essersi tolto deliberatamente la vita ciò che resta impresso nella memoria è l'atto cristologico di sacrificio liberatorio tutti i centri del cardine del canto e lo è in gran parte grazie al ripristino di cui gode per mano di Dante Catone non è più figura appartenente alla letteratura latina ma personaggio squisitamente dantesco il quale funge non soltanto dall'emblema dell'originalità della concezione dantesca del purgatorio e dei valori cristiani del regno ma anche per effetto del secretismo dell'esecuzione formale da simbolo del pluristilismo comico che come l'incipi di purgatorio uno conferma continua a caratterizzare la commedia l'alighieri riesce a conferire a Catone quello che la cultura classica non avrebbe mai potuto concedergli giustifica l'uomo e la sua vita in termini providenziali tuttavia nel far questo il planet asseriva anche la propria indipendenza da una certa cultura teologica intransigente sottolineando come fece spesso la continuità e i legami tra l'umanità prima e dopo la redenzione al tempo stesso per quanto Dante volesse salvare il mondo antico e lì fu tutt'altro che cieco davanti ai suoi limiti dunque l'opposizione tra Catone e Virgilio è anche un modo per introdurre e contrastare due modelli di vita da un lato l'intellettuale come uomo d'azione e dall'altro l'intellettuale come uomo di parole alternative che la cultura classica teneva separate ma che si fondono nella figura del pellegrino scriva dei e viato cristiano inoltre la critica di Catone al discorso alto di Virgilio è pure critica dello stile tragico come mezzo pratico con cui affrontare i bisogni concreti del reale secondo Catone ma anche secondo Dante le forme raffinate e abbondanti della tragedia sono arte piuttosto che vita artificio piuttosto che comunicazione esse rappresentano i pericoli della letteratura come dilezio antitesi dell'utilità della letteratura comica che conduce alla salvezza inoltre Catone sa benissimo di cosa sta parlando idistica si chiudono affermando l'importanza di scrivere in maniera chiara diretta breve e con scopi eticamente validi miraris verbis nudis mes scrivere versos hoc brevitas facit sensus coniungere binos l'epiteto nudus si riferisce allo stile satirico il quale senza abbellimento censura i vizi ed elogia le virtù non proprio lo stile comicus dantesco ma dall'altro canto stilos più aderente di quello tragico agli scopi salvifici e formali del poema sacro in Purgatorio 1 Catone non è soltanto exemplum esistenziale ma anche auctor da imitare figura quindi vicinissima a Lagenz secco il rivedere le stelle l'autoritas virgiliana emesse in crisi pur sempre dell'alto scende virtù che garantisce tanto al pellegrino quanto al poeta di continuare ad avere chi li guidi verso le mete volute della volontà divina Purgatorio Purgatorio 1 di sicuro introduce un ambiente redento liturgicamente sereno e cristianamente umile al tempo stesso però si occupa di colpe di sucidume e nebbia infernali di inquietudini e di tensioni sorprendenti ed è appunto la sua straordinaria portata ideologica e tematica che come il canto stabilisce sin dai primissimi versi richiede uno stile flessibile e libero stile che solo alquanto può attingere a qualsiasi convenzione letteraria precedente vi ringrazio dell'attenzione e ora leggerò il primo canto per correre miglio l'acqua e alza le vele o mai la navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé marsi crudele e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al cielo diventa degno ma qui la morta poesia surga o sante muse poiché vostro sono e qui caliopè alquanto surga seguitando il mio canto con quel suono di cui le picche misere sentiro lo colpo tal che disperar perdono dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro agli occhi miei ricominciò il diletto tosto che uscì fuori dell'aura morta che m'avea consistati gli occhi e il petto lo bel pianeto che da mar con forza faceva tutto lì dell'oriente velando i pesci che erano in sua ascolta io mi volsi a man destra e puosi mente all'altro polo che vidi quattro stelle non viste mai fuori che alla prima gente godere pareva il ciel di lor fiammelle o settentrionale vedo vosito poiché privato sei di mirar quelle com'io da loro sguardo fui partito un po' come volgendo all'altro polo la onda il carro già era sparito vidi presso di me un veglio solo degno di tanta reverenza in vista che più non dè a padre al configliolo lunga la barba e di pel bianco mista portava ai suoi capelli similiante e quai cadeva al petto doppia lista i raggi delle quazzo lucisante freggiavansi la sua faccia di lume che io vedea come il sol fosse davanti chi siete voi che contro il cieco fiume fuggita avete la prigione eterna di sel muovendo quelle oneste piume chi va guidati e onde o che vi fu lucerna uscendo fuor della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna sono le leggi da pisto così rotte o è mutato in cielo nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte produca mio allor mi diedi piglio e con parole e con mani e con cenni irreverenti mi fe le gambe il ciglio posse rispose lui a me non venni donna scese del cel per li cui prieghi della mia compagnia costui so venni ma da che è tuo voler che più si spieghi di nostra condizione come l'è vera esser non puoti il mio che a te si neghi questi non vide mai l'ultima sera ma per la sua follia le fu si presso che molto poco tempo avvolgera siccome io dissi fui mandato adesso per lui campare e non gli era altra via che questa per la quale io mi son messo mostrato o lui tutta la genteria e ora intendo mostrare quegli spiriti che purgan se sotto la tua ballia come io lo tratto sarei a lungo a dirti dall'alto scende virtù che mi aiuta a conducerlo a vederti e udirti e ora ti piace gradire la sua venuta libertà va cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta tu sai che non ti fu per lei amara inutica la morte ove lasciasti la vesta che al grandì sarassi chiara non son gli editti eterni per noi guasti che questi vive e minos me non lega ma son del cerchio ove son gli occhi casti di marzia tua che in vista ancora ti priega o santo petto che per tua la tegni per lo suo amore adunque a noi ti piega lasciane andare per i tuoi sette regni grazie riporterò di te a lei se desser mentovato laggiù degni ma sia piacque tanto agli occhi miei mentre che io fu di là di segli allora che quante grazie volse da me fei or che di là dal mal fiume di mora più muover non mi può per quella legge che fatta fu quando me nusci fora ma se donna del ciel ti muove e regge come tu di non c'è mestiere lusinghe bastisi ben che per lei mi ricchegge va dunque e fa che tu costui ricinghe d'un giunco schietto e che li lavi il viso si che ogni sucidume quindi stinge che non si converria all'occhio sorpriso d'alcuna nebbia andare dinanzi al primo ministro che di quei di paradiso questa isoletta intorno ad ad la giuccolà dove la batte l'onda porta di giunchi sovra il molle limo null'altra pianta che facesse fronda o indurasse vi puote aver vita però che alle percosse non seconda posse non sia di qua vostra redita lo sol vi mostrerà che surge ormai prendere il monte a più lieve salita così sparì e io su mi levai senza parlare e tutto mi ritrassi al buco mia e gli occhi a lui dirzai e cominciò figliol seguimi i passi voglianci indietro che di qua di china questa pianura ai suoi termini bassi l'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia innanzi sicché di lontano conobbi il tremolar della marina noi andavamo per lo solingo piano comom che torna la perduta strada e infine ad essa mi pare ir in vano quando noi fummo la la rugiada pugna col sole per essere in parte o dove ad orezza poco si dirada ambo le mani sull'erbetta sparte soavemente il mio maestro pose ondio che fui accolto di sua arte porsi per lui le guance lagrimose ivi mi fece tutto discoverto quel colore che l'inferno mi nascose venimmo poi insullito diserto che mai non vide navicare sue acque omo che di tornaia si apposce esperto qui rimicinse si come altrui piacque o maraviglia che qual egli scelse l'umile pianta cotal si rinacque subitamente la onde l'abbelse si si as 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 o as 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 Grazie a tutti